Lisvanek, presentazione ufficiale di Cuneo, ti avevamo già conosciuto qualche tempo fa, ma insomma come sono stati questi primi giorni di allenamenti con la nuova squadra, questi primi giorni a Cuneo? Sono stati belli, duri però belli, mi sono trovata benissimo con il nuovo gruppo, tutte ragazze carinissime e vabbè diciamo che il primo passo è andato bene. Ecco, primi allenamenti, hai detto che sono allenamenti duri però state già provando le prime cose, insomma iniziate a conoscervi tra nuove giocatrici perché siete tante nuove. Sì, siamo quasi tutte nuove e secondo me è importante che facciamo gruppo, sarà anche importante per le partite, adesso stiamo ancora lavorando tecnicamente di toccare un po' la palla perché comunque c'è stata una pausa lunga. Grazie.